Ben ritrovati, nuovo appuntamento insieme a Marco Massignane che ritroviamo con molto piacere. Ciao Marco. Ciao Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di un tema spinoso e anche magari difficilmente afferrabile ma sicuramente dannoso in quella che è la sua forse accezione più negativa ma cercheremo di inquadrare tutta questa realtà che è quella appunto del satanismo. Come spesso facciamo quando affrontiamo dei termini molto implazionali partirei subito dall'inquadrare questo termine satanismo che appunto viene inserito a destra e a manca. Cosa si intende? Quali sono le origini storiche di questo che è un vero e proprio occulto? Fai bene Fabio a portare questo approccio di fare chiarezza e partire proprio dalle parole e dai significati delle parole e dal contesto storico proprio perché c'è grande confusione come per tanti altri termini ma soprattutto per questo termine satanismo e tutto quello che ci gira attorno ovviamente viene usato in maniera forbiante, strumentale, pelosa, dire così, dai media e da tante anche persone per orare la propria causa e per soprattutto diffondere paura, diffondere emozioni che non sono certamente positive e fare ulteriore confusione. Quindi invece noi cerchiamo di fare chiarezza e quindi partiamo da che cosa vuol dire satanismo e da dove viene questo termine. Prima di tutto guardiamo l'aspetto etimologico, la parola satana viene già citata nella Bibbia e significa l'avversario, il nemico, quindi questa forza, questo essere che sarebbe l'incarnazione del male. Molto spesso la parola satana, come ripeto, vuol dire avversario, nemico, viene equiparata alla parola diavolo, al nome del diavolo, che invece ha un altro significato e viene dal latino medievale diabolos, che la parola diavolo invece significa colui che separa, colui che divide, l'ingannatore anche. Ed è interessante osservare questa distinzione perché appunto quando comunemente si pensa al diavolo, a satana eccetera, si fa confusione tra i due, ma in realtà sono due cose ben distinte, perlomeno nella loro funzione e la funzione di separazione è piuttosto interessante, magari lo vedremo poi nella prosieguo di questa puntata. Un altro termine che spesso viene confuso con quello col nome di satana è un altro nome, è quello di lucifero, che letteralmente significa portatore di luce. Ovviamente questo è il significato etimologico e spesso appunto satana, diavolo, lucifero, l'ingannatore eccetera, vengono tutti messi in un unico calderone e invece si ignorano le origini storiche, letterarie e anche spirituali esoteriche di questi termini. Quindi per quando invece parliamo di lucifero, essendo portatore di luce, bisogna risalire a tutte queste cose, in realtà a parte diavolo che ha un'origine cristiana medievale, ma i due termini satana e lucifero hanno un'origine pre cristiana. Lucifero portatore di luce è identificato in alcune fonti medio orientali come con la stella del mattino, in particolare nella tradizione yassidica che è una tradizione pre islamica che ancora è in auge tra la Siria ed Iraq e anche tradizioni cristiane, tradizioni musulmane antiche identificano con lucifero appunto la stella del mattino. Si narra appunto nei testi cristiani che questo angelo caduto, appunto lucifero è un angelo che si ribella a Dio e per questo cade sulla terra e porta avanti il male, cerca di ingannare gli esseri umani. Ci sono anche altri termini che non stiamo, altri nomi che non stiamo qui a identificare, però è importante, ecco per quanto riguarda lucifero direi possiamo fare un piccolo excursus, come mai questo angelo che si ribella a Dio cade sulla terra e quindi cerca di forviare gli esseri umani perché desidera portare avanti un progetto alternativo nella tradizione così cristiana si dice e quindi cerca di forviare gli esseri umani. Il satanismo in realtà è è un culto appunto che ritroviamo oggi in varie forme ma che bisogna tenere presente che non nasce soltanto con il cristianesimo. Il cristianesimo ovviamente lo permea dei propri valori, dei propri concetti ma ovviamente i demoni esistevano già prima che esistesse il cristianesimo, già per esempio nell'antico Egitto, nell'antica Babilonia, presso gli assiri, sumeri e in ogni tradizione del mondo ci sono sempre state figure equiparabili a quello che oggi nel cristianesimo viene identificato con la parola satana. Bisogna anche dire che una volta che il cristianesimo prese piede in Europa a partire da tardo impero romano ma soprattutto poi nel medioevo i vari culti pagani preesistenti al cristianesimo che erano collegati alla celebrazione dell'energia sessuale, alla celebrazione dell'amore sessuale, della selvaticità e venivano appunto identificati con divinità quali Pan nell'antica Grecia, i satiri, questi esseri metà uomo, metà caprone con la coda, le corna che esistevano nella religione romana, nella religione etrusca e nelle religioni celtica, vennero poi identificati con satana come succede sempre quando una religione soppianta un'altra o si innesta su un suo strato spirituale precedente. Per cui, ripeto, i vari culti collegati a... i culti agresti collegati alla celebrazione della fecondità, della selvaticità, dell'amore sessuale, erano ad esempio a Roma quello collegato al dio Silvanus, che è il corrispondente della tradizione celtica del dio Cernunnos. Qui Silvanus ha corna di capra, mentre invece Cernunnos ha corna di cervo, e si è più diffuso dall'Europa settentrionale fino alla pianura padana, fino alla Spagna, fino all'Asia minore. Mentre invece, appunto, in Grecia abbiamo il dio Pan, che ha delle caratteristiche simili, che seduce le giovani donzelle, eccetera, eccetera. Quando arriva il cristianesimo, queste divinità vengono man mano demonizzate e passano a rappresentare Satana, e per cui abbiamo oggi nella tradizione cristiana viene raffigurato appunto l'ostacolo, il separatore, l'ingannatore viene raffigurato con corna di capra, col muso di capra, e con le zoccoli di capra. Ma in realtà sono, se guardiamo dal punto di vista più ampio, dal punto di vista storico, sono tutte trasposizioni successive che ci fanno capire che non è che esiste soltanto Satana o soltanto i demoni da quando è nato il cristianesimo, ma in realtà da quando è nato l'essere umano. E ora, Marco, vediamo quella che è la tua visione del fenomeno del satanismo, cioè che cos'è dal tuo punto di vista, è qualcosa legato all'anticristo, oppure può essere inteso comunque come sinonimo espressione di malvagità in quanto tale con gruppi che si rifanno a questo tipo di approccio? Ma ci sono un po' tutte e due le cose. Io non ho una conoscenza specifica per quanto riguarda il cristianesimo, dato che mi sono formato e pratico altre forme di spiritualità, ma ovviamente conosco almeno nei suoi tratti essenziali quella che è la tradizione cristiana. Ovvio che esiste un principio del male, esiste un principio della malvagità che appunto viene espresso nelle varie culture sotto forme diverse, per cui abbiamo appunto nella tradizione cristiana Satana, il diavolo, Lucifero, eccetera, in altre tradizioni ci sono altre forme, i demoni vengono raffigurati in altre forme, con altre modalità, ma sempre dietro ci sta quel principio che è quello del principio del male, che dobbiamo ricordare, esiste come appunto dice anche il nome Satana, l'avversario, esiste per porci degli ostacoli. Noi siamo qui come esseri umani sulla Terra, siamo degli spiriti che si incarnano attraverso un'anima e attraverso un corpo fisico, in un corpo fisico vengono sulla Terra, veniamo sulla Terra per fare delle esperienze e per crescere, evolvere, prendere sempre più coscienza della nostra divinità, della nostra parte divina, di quello che noi siamo in realtà. e ne prendiamo coscienza facendo delle esperienze sulla Terra, sbagliando, imparando dagli errori che facciamo. Le forze dell'ostacolo, le forze del male, non sono altro che delle forze che apparentemente sono dell'ostacolo, ma in realtà sono al servizio proprio dell'evoluzione, sono al servizio di questa sfida che noi esseri umani abbiamo di crescere ed evolvere. e quindi vanno visti in maniera, se guardiamo dal punto di vista evoluto, dal punto di vista spiritualmente evoluto, dal punto di vista di un essere umano che si è cominciato a fare certe domande, cerca delle risposte, ha fatto delle esperienze, non dobbiamo temere nulla dalle forze dell'ostacolo, perché non servono altro che a farci crescere ed evolvere, rispetto a noi scegliere da che parte stare, che cosa fare, rispetto a noi, se nutrire in noi qualità malvagie o qualità demoniache, oppure nutrire l'amore verso gli altri e verso noi stessi, nutrire la gioia, nutrire la pace, nutrire il bene. Questa è sempre la scelta che abbiamo di fronte, l'abbiamo già detto in altre puntate, come esseri umani. Noi esseri umani abbiamo la prerogativa di poter scegliere. Gli angeli non possono scegliere, devono fare gli angeli, devono compiere il piano divino. I demoni non possono scegliere, devono fare i demoni, devono contrastare il piano divino in questa funzione evolutiva. Noi esseri umani siamo in mezzo tra queste due figure, tanto è vero che tante volte si vedono queste immagini di una persona che ha un diavoletto su una spalla e un angioletto sull'altra, che ha una visione un po' semplicistica, però che esprime questo fatto. Quindi noi esseri umani abbiamo questa prerogativa, questa grande opportunità di poter scegliere tra il bene e il male e poter quindi evolvere attraverso questa sfida che ci viene posta quotidianamente. Per cui vedendo le cose da questo punto di vista a mio avviso è voluto, fa un po' sorridere quel tipo di pensare di alcune persone che ancora sono legate a pregiudizi che vengono dal Medioevo, che vengono dal clero cattolico e che vengono appunto da tutta una storia che spesso non è stata portatrice di luci o non ha espresso il bene o l'amore di Cristo come si voleva far credere, ma la storia cristiana è costellata di torture, di inquisizione, di sterminio e soprattutto alcune parti della Chiesa che sono state dominanti nei secoli addietro hanno sempre prestato il fianco al potere temporale e hanno sempre ritenuto che gli altri popoli, i popoli non cristiani, fossero in qualche misura inferiori o dei bambini da cristianizzare, da evangelizzare, e quindi le missioni nel mondo per convertire gli altri. Purtroppo molti cristiani ancora oggi credono in questo tipo di cose, per cui qualsiasi cosa non sia cristiana automaticamente è satanica, e per cui credono che Satana sia ovunque e che, non so, se qualcuno fa yoga è una cosa satanica, se un altro va a partecipare a una cerimonia dei nativi americani oppure a un rito buddista, di nuovo è Satana che lo converte, che vuole deviarlo dalla verità, che la verità è ovviamente soltanto quella del Papa, quella della cristianità e via di questo passo. Per cui anche solo farsi delle domande che ci stiamo facendo adesso e cercare delle risposte sarebbe qualcosa di satanico per questo tipo di pensiero. Un altro dei concetti che spesso viene accusato da queste frange di essere satanico è anche solo il ritenere che dentro di noi abbiamo una parte divina. Alcuni pensano, sì, noi siamo tutti figli di Dio, ok, però dire che noi abbiamo una parte divina dentro di noi e vogliamo cercare di scoprirla, esprimerla e diventare quel divino che siamo nel nostro corpo, nella nostra quotidianità, sarebbe per alcuni satanico. E in effetti a volte lo diventa satanico perché ci sono persone, soprattutto in ambito così alternativo, complottista e via dicendo, che liquidano il tutto dicendo, ma io sono Dio. Ok, certo, io ho una parte divina dentro, in realtà la mia essenza è divina e tutte le parti che sono più basse sono temporanee e quindi sono destinate a perire e quindi non sono me. però liquidare il tutto dicendo semplicemente io sono Dio diventa poi facile pensare io, siccome io sono Dio, io faccio quello che voglio e quindi va bene tutto, mi posso comportare così come voglio, dato che io sono Dio, mi perdono e vado avanti in questo modo. In realtà questo tipo di pensiero è effettivamente un pensiero che coltiva il male, quindi se lo diamo dal punto di vista cristiano è un pensiero satanico. Come sempre la realtà sta un po' in mezzo, in realtà di nuovo quello che è importante è cercare di avere una visione il più obiettiva e il più ampia possibile, una visione non giudicante e ognuno deve poi scoprire la sua strada sul cammino della crescita e dell'evoluzione. Prima di parlare un attimo dei fatti di cronaca nel canale abbiamo parlato spesso della figura di Crowley e ne abbiamo parlato chiaramente in modo piuttosto negativo anche se ultimamente Paolo Franceschetti ha dato delle aperture e quindi che magari non era poi quel male assoluto che si è voluto far credere. Io non so se tu conosci o hai letto perché non è obbligatorio, anzi magari uno legge qualcosa e visti i temi potrebbe anche allontanarsene, ma così, proprio velocemente, che cosa ne pensi di questa figura? Io conosco, non conosco in maniera approfondita questa figura, come dici, ho letto tante cose, ho fatto tante esperienze ma rispetto a questo non ho una conoscenza diretta. Da quello che ho potuto evincere si tratta sicuramente di un esponente importante del satanismo soprattutto britannico-inglese essendo inglese quindi ha potuto poi diffondersi in tutto il mondo soprattutto attraverso la massoneria e so che ha anche avuto un influsso importante su Churchill e quindi su tante scelte che poi sono state fatte perché quindi non direi che sicuramente adesso non so, Franceschetti non ha ascoltato la puntata in cui ne ha parlato in maniera positiva dovrei magari farlo ma a me sembra comunque un esempio da non seguire. E allora, dicevamo di fatti di cronaca che spesso ci fanno emergere notizie di gruppi che compiono delle ritualità apparentemente sataniche cerimonie poco chiare che talvolta portano forse a domicili all'arresto di alcune persone che a volte sono coinvolte magari altre volte sono dei capi ispiatori che servono a coprire altre realtà. Ecco, che fenomeno è, che ripercussioni ha e quanto è diffuso secondo te? Bisognerebbe avere un posto alla situazione dal punto di vista delle forze dell'ordine o del Ministero dell'Interno per sapere in Italia o in altri paesi per sapere quanto è diffuso in termini numerici questo tipo di fenomeno. Quello che posso dire è che a talvolta questo emerge nel lavoro che faccio tanto che andiamo a lavorare con l'interiorità delle persone con la storia delle famiglie e delle persone e per cui certo tante volte emergono fatti negativi come le maledizioni che si tramandano di generazione in generazione o le conseguenze negative di scelte per il potere, il controllo, il dominio sono fatte dalle persone in primo luogo o dai loro antenati ma questo è un altro discorso che tocca marginalmente il tema di cui stiamo parlando oggi. Talvolta emergono anche cose tipo omicidi rituali, la pertenenza a gruppi che perseguono il controllo, la manipolazione, il potere fine a se stesso attraverso anche riti che comportano dei sacrifici di animali piuttosto che addirittura dei sacrifici umani. In realtà, in generale, dietro questi gruppi ci sono altre forze che li usano di solito come burattini o come manovalanza per succhiare energia quindi ci sono sia figure umane per cui gruppi più elevati che stanno nell'ombra che magari usano l'ignoranza o la sete di potere o la follia di alcuni giovani di altre persone di più basso livello cognitivo e fanno far loro certe cose per poi succhiare energia per poi trarre energia da loro. Dietro queste altre persone per esempio è piuttosto noto ormai il caso del mostro di Firenze in cui pare ci fosse appunto una lobby di professionisti che commissionava queste cose che usano la follia di qualcuno usano la psicopatologia di qualcuno per succhiare energia per avere potere a livello energetico e ovviamente anche questi capi umani che stanno dietro a queste realtà abominevoli sono a loro volta parassitati sono a loro volta utilizzati da forze oscure che non sono magari incarnate e che utilizzano tutto questo per trarre energia per succhiare energia agli esseri umani e per deviarli dal loro vero scopo che come abbiamo già detto è quello di crescere e di evolvere ma possiamo dire lo stesso per altre pratiche come per esempio le pratiche sessuali sadomaso il bondage e tante altre cose che sempre di più vengono sdoganate come tra virgolette normali in realtà quello che io osservo quando incontro questo tipo di cose è che dietro di loro alle spalle dei protagonisti di tutto questo vi sono sempre immancavilmente dei traumi importanti qualcosa di dei traumi che la persona ha vissuto dei traumi familiari dei traumi relativi agli antenati cose accadute che sono molto dolorose molto 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 dire gravi e che hanno delle ripercussioni sui loro discendenti per esempio persone che praticano il sadomaso persone che sono in qualche modo coinvolte col satanismo se andiamo a scavare nelle loro famiglie d'origine troviamo cose come un nonno che è stato internato in un campo di concentramento oppure un altro nonno o un bisnonno che ha subito delle molestie a livello sessuale o meno stupri di gruppo o ancora torture come ad esempio avvenivano durante la seconda guerra mondiale appunto nei campi di concentramento un nonno che è stato picchiato ripetutamente umiliato per tanto tempo e quindi questo dolore che questo nonno dell'esempio ha subito rimane dentro di lui anche quando lui torna a casa magari lo esprime attraverso o lo cerca di sopire attraverso l'uso di alcol oppure lo esprime diventando violento con i suoi familiari con i suoi figli e quindi quel male che gli è stato fatto si ripercuote sui discendenti e tante volte i discendenti come dire vanno ad associare quindi all'amore il dolore e quindi diventa una perversione e va a sviluppare il sostrato interiore su cui poi si basano pratiche come il sadomaso il bondage e altre cose e anche l'aderenza all'aderire a gruppi satanisti o avere veramente una devastazione interiore tale che poi faccia desiderare di servire il male o desiderare di far parte di gruppi di questo tipo un'altra dinamica che ho osservato diverse volte nel mio lavoro è quella di persone che hanno problemi importanti con i propri figli che sviluppano magari delle malattie tipicamente la leucemia o altre malattie simili e andando a scavare nel passato si trovano antenati che hanno compiuto riti satanici o che hanno compiuto dei riti per diventare potenti per acquisire denaro per acquisire potere ricchezza e ovviamente questi riti sono stati fatti dedicandoli a delle forze oscure come quelle come satana eccetera e questo tipo di riti nelle generazioni successive ha delle ripercussioni importanti alcune le ho già dette ma tipicamente ai discendenti di queste persone muore un figlio o un figlio diventa diventa pazzo diventa che a sua volta compie degli atti degli atti di violenza oppure viene internato in un ospedale psichiatrico proprio perché ci sono alle spalle questo tipo di fatti in generale questi riti oltre che il sacrificio di una persona oltre che il sacrificio di animali quindi ovviamente questa persona viene presa ad esempio una prostituta una persona che appartiene a un rango a un ceto inferiore una persona di cui nessuno sentirà la mancanza perché è un invisibile e viene utilizzata per sfogare tutta la rabbia e tutto il desiderio di potere da parte di questi gruppi che poi offrono tutto questo sacrificio a delle divinità oscure oppure che loro credono essere divinità oppure a Satana al diavolo a Lucifero eccetera ma non è ovviamente soltanto una prerogativa dell'ambito così occidentale o cristiano pensiamo ad esempio a tutto l'ambito mesoamericano sudamericano di cui gli aztechi sono stati soltanto gli ultimi attori in cui il sacrificio umano era alla base proprio di quel tipo di religione ma se andiamo più indietro nel tempo lo ritroviamo anche nelle religioni antiche quindi presso i fenici presso gli stessi romani presso i celti presso i nostri antenati remoti e questo è un aspetto importante l'altro aspetto è l'aspetto collegato all'energia sessuale per cui in questo tipo di riti si cerca di raccogliere di evocare il massimo di energia sessuale possibile e poi offrirla o direzionarla verso le forze oscure questo viene fatto perché naturalmente che cosa dovrebbe succedere che cosa accade negli esseri umani accade che ciascuno di noi entra in contatto con la propria energia sessuale l'energia sessuale non è altro che l'espressione della vita l'espressione del corpo attraverso la quale la vita si riproduce va avanti da milioni di anni e ovviamente l'energia sessuale non è soltanto presente nell'essere umano per riprodurre la vita come sostengono appunto alcune posizioni becere del cristianesimo di altre religioni ma l'energia sessuale è anche alla base della creatività per cui io posso sentire percepire l'energia sessuale e usarla per veicolarla per avere dei figli posso veicolarla per creare opere d'arte un quadro una canzone scrivere un libro fare del bene agli altri quindi l'energia sessuale è l'energia stessa della vita quindi questo questo è il naturale corso dell'energia sessuale che viene la vita che serve se stessa la vita che si espande la vita che gioisce nella celebrazione di se stessa nell'espressione di se stessa che dovrebbe essere il più libera possibile mentre c'è priva di dogmi priva di pensieri come ad esempio quello che dice nel cristianesimo medievale che bisogna fare sesso solo per avere dei figli e tutto il resto è peccato tutto il resto sarebbe satanico quello che fanno i gruppi satanici questi gruppi rituali che fanno appunto dei riti di magia sessuale con determinati simboli con determinati strumenti con l'ausilio o meno di sacrifici di sangue il sangue a sua volta è simbolo della vita il sangue è reca con sé la forza della vita e prendono poi questa energia sessuale anziché direzionarla verso una espressione della vita in sé un'espressione dell'essere umano una celebrazione di qualcosa di buono di bello di utile agli altri come può essere una vera opera d'arte non la porcheria che fanno di questi tempi ma quelle opere d'arte che ci mettono in contatto col divino che ci mettono in contatto con parti più elevate di noi loro invece le direzionano contro la vita e quindi le offrono a esseri oscuri le offrono a demoni e che ovviamente succhiano tutto questo e traggono la propria linfa vitale proprio da questo tipo di energia per cui in questo tipo di gruppi sono sempre gruppi piramidali in cui c'è un capo degli adepti e poi ci sono appunto come ho detto prima altri capi uno sopra l'altro altri livelli i più alti sono ovviamente livelli occulti livelli che non si non si non si vedono e tutti quelli che stanno sotto sono loro schiavi per cui sono la questi tipo di gruppi sono l'espressione massima del desiderio egoico di potere del desiderio egoico di succhiare energia e quindi la negazione stessa della vita quindi come potremmo andare a definire il portare avanti il satanismo cioè è vero che alcune elite si rifanno a questo tipo di meccanismi mi sembra oramai evidente a chi abbia gli occhi per vedere o chi voglia vedere che i gangli del potere le istituzioni più si va in alto e più sono preda sono più più sono permeate da perlomeno da concetti di tipo satanico e sono ovviamente sappiamo bene che realtà come la mafia l'andrangheta nella vita organizzata sono interconnessi ai governi non è che sono realtà esterne ai governi che fanno invece finta di combatterle abbiamo visto come negli ultimi anni si siano utilizzati i droni per inseguire persone che correvano sulla spiaggia e vi sia ormai la tecnologia per controllare tutti noi nei nostri like e dislike quello che ci piace non ci piace ormai sanno tutto di noi ovviamente non possiamo credere che la stessa tecnologia non possa essere utilizzata per sconfiggere le mafie e la criminalità organizzata che invece in realtà sono interconnesse fanno parte appunto del potere in sé quindi dei governi e delle organizzazioni transnazionali un ulteriore segno un'ulteriore riprova in questo senso ad esempio se si va si è avuta nel 2012 con la cerimonia di apertura delle olimpiadi di Londra nel 2016 con la cerimonia di apertura di inaugurazione del tunnel del San Gottardo in Svizzera a cui hanno partecipato il premier italiano e quello tedesco oltre a quello ovviamente svizzero con dei temi che con dei simboli che sono propriamente simboli satanici simboli maligni poi certo gli sbufalatori possono cercare di smontare queste cose possono dire no in realtà nel cerimonia del San Gottardo si rappresenta il caprone in quanto nell'accezione che dicevo prima quindi il dio Silvanus o Pernunnos eccetera ma ci sono anche altre parti della quella cerimonia e di quella di Londra che sono evidentemente simboliche proprio di Lucifero in quanto angelo del male della manipolazione del controllo delle masse questo è indubitabile questo è evidente basta andare su YouTube a guardarsi i video e chiunque abbia uno spirito di realtà e di ricerca della verità se ne può accorgere e quel tipo di eventi di massa che vengono rappresentati sulle televisioni e raggiungono miliardi di persone sono eventi estremamente potenti appunto queste le forze che decidono i temi da rappresentare in eventi inaugurali come quello sanno bene che miliardi di persone li guarderanno e quindi sfruttano quella occasione per passare dei simboli perché non si parla esplicitamente di satanismo ma vengono veicolati dei simboli i simboli parlano al nostro inconscio parlano alla nostra energia e vanno ad essere sdoganati quindi per esempio appunto il simbolo del caprone il simbolo del pentacolo rovesciato il simbolo dell'angelo bambino che domina l'angelo malefico che domina gli altri tante persone che camminano come un piccolo esercito controllate da una forza superiore tutti questi simboli poi sono diventati negli ultimi anni ormai cosa comune e quindi vediamo nella musica ormai ogni sempre di più ogni festival di Sanremo questo 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 tipo di di simboli viene passato viene passato nei testi delle canzoni viene passato nell'abbigliamento dei cantanti dei presentatori nelle gag che si fanno vediamo Fiorello che denigra la religione cristiana denigra la figura del Cristo se io fossi un cristiano mi indignerei mi indigno in realtà lo stesso perché comunque il Cristo è un grande maestro è comunque un simbolo del divino vediamo nella moda c'è bisogno di citare Lady Gaga piuttosto che una serie di altri personaggi che evidentemente sono permeati informati di satanismo e quindi queste cose poi passano ai giovani voglio dire questo c'era già quando ero giovane io nella mia generazione negli anni anni 80 sappiamo bene che già c'era negli anni 80 e 90 la musica heavy metal death metal piuttosto che gruppi come gli slayer o tanti altri che nei loro testi nella loro nella loro musica portavano temi satanici io nonostante io fossi un metallaro oscillavo un po' tra i dark e i metallari in quell'epoca quando ero adolescente ma mi sono sempre tenuto ben alla larga da gruppi che propagandavano che veicolavano un messaggio satanico anche allora era così certo però questi gruppi death metal e l'animetal comunque erano gruppi di frangia erano comunque alternativi erano comunque espressione di una nicchia della musica non erano certo il mainstream non si vedevano in televisione se volevi comprare dischi di questo tipo di gruppi andare ai loro concerti lo potevi fare ma non erano rappresentati nel mainstream mentre invece adesso vediamo qualche decennio dopo che i temi satanici passano nel mainstream anzi sono uno dei temi principali lo vediamo ripeto nella musica lo vediamo negli spettacoli lo vediamo al cinema quindi il gusto dell'horror fino a se stesso anche la rappresentazione di zombie continua di rappresentazione anche di sentimenti negativi che vengono celebrati come come giusti come legittimi come insomma tutte queste cose oramai fanno parte del mainstream proprio perché chi decide quali film passare e quali no chi decide quali cantanti promuovere e quali no e se non vengono promossi non si vedono non passano sono destinati a perire chi decide tutte queste cose ovviamente è evidente fa parte di elite che non sono certo interessate alla crescita del genere umano ma al contrario alla devastazione e alla in certo qual modo cercare di impedire ostacolare che il genere umano si evolva e diventi più se stesso nella strada dell'evoluzione ma d'altra parte fanno solo il loro mestiere e come rapportarsi quindi a questo satanismo dilagante che vediamo ormai nelle istituzioni nei gangli del potere nei mezzi di comunicazione cinema musica perché poi insomma anche lì i riferimenti non mancano non certo da oggi beh da una parte non dare loro attenzione perché nel momento stesso in cui diamo attenzione a chi veicola questo tipo di messaggi questo messaggio comunque ci tocca entra certo poi possiamo se noi siamo sufficientemente nell'amore nel vero nel bene nell'altruismo nell'amore incondizionato non può entrare ma un eccessivo interesse verso questo tipo di cose ovviamente fa sì che la nostra energia si diriga da quelle parti anche se non lo vogliamo questa stessa puntata il tema di questa puntata è ovviamente un tema informativo vogliamo dare degli spunti alle persone per cercare di comprendere un qualcosa ma poi non bisogna fermarsi su questo qualcosa e bisogna semplicemente tenere conto che vi sono anche queste cose e andare oltre quindi se noi siamo in una ricerca spirituale autentica se facciamo delle pratiche spirituali volte verso il bene se soprattutto pratichiamo il bene perché non basta fare delle pratiche spirituali e avere tra virgolette la coscienza a posto bisogna poi metterlo in pratica nella nostra quotidianità ci sono persone che pensano che basta recitare un mantra o meditare un'ora al giorno piuttosto che andare in chiesa e confessarsi allora sono a posto poi posso uscire dalla chiesa uscire dalla mia pratica meditativa e fare le peggiori nefandezze tanto Dio mi perdona o comunque sono a posto perché il guru ha detto così perché il maestro ha detto così perché il papa ha detto così ma non funziona in questo modo quindi quando vediamo innanzitutto bisogna essere svegli e notare queste cose quando vediamo dei segnali ci sono ad esempio la maggior parte dei cantanti gran parte dei comici del panorama italiano che in questi ultimi tre anni non hanno fatto altro che fare da gran cassa del potere veicolare i messaggi che è il potere e le forze occulte al di sopra di questo volevano si veicolassero e ovviamente hanno venduto la loro anima a questo tipo di forze per esempio questo tipo di questi cantanti questi attori comici alcuni dei quali mi piacevano anche non li ascolto più per principio proprio perché sono dei venduti sono delle persone che insomma non meritano a mio avviso di stare nel posto che occupano mentre invece ci sono tanti artisti tanti musicisti anche giovani tanti comici tanti attori che non possono emergere proprio perché non si piegano a questo tipo di ricatti e sono a mio avviso questi da promuovere da incoraggiare da ascoltare di nuovo non bisogna avere paura di queste cose perché nel momento in cui stesso io nel momento stesso in cui io ho paura questo tipo di energie comunque ha un vantaggio su di me o entra dentro di me o entra in contatto proprio sfruttando la mia paura bisogna invece nella quotidianità promuovere il bene promuovere azioni fare qualche cosa di concreto anche piccolo per gli altri ricercare la connessione col divino con la luce con l'amore incondizionato con la pace e nelle proprie parole nei propri gesti nelle proprie azioni promuovere questo in questo modo si è al riparo dall'influsso di queste di queste realtà ovviamente questo si può fare molto meglio se si inizia un lavoro su di sé per andare proprio a sviscerare le proprie parti oscure perché non è che le forze oscure o il diavolo eccetera sono fuori di noi sono anche dentro di noi sta a noi scegliere quale delle due nutrire c'è una una storia nativa americana che ormai nota anche al grande pubblico è la storia dei due lupi il lupo bianco e il lupo nero che sono entrambi dentro di noi il lupo bianco è l'incarnazione dell'amore della luce della pace e il lupo nero è l'incarnazione dell'odio della collera della violenza dell'invidia e della gelosia questi due lupi sono entrambi dentro di noi spetta a noi decidere quale dei due lupi nutrire e quale dei due lupi invece fare morire di fame però speriamo di aver aiutato a chiarire questo aspetto del satanismo io ringrazio Marco Massignan che ritroveremo prossimamente per il momento buona estate e ci vediamo presto ciao Marco grazie Fabio e grazie a tutti gli ascoltatori grazie a tutti